La prossima riunione del Cipri in programma a metà febbraio dovrebbe finalmente sciogliere in via definitiva i nodi riguardanti la cessione del progetto dell'autostrada Ragusa-Catania dalla Sark all'ANAS e quanto afferma il segretario generale dell'OSTCS, la Ragusa-Siracusa, Vera Cerasi che spiega come stiano monitorando l'ITER per comprendere quale sarà l'orientamento definitivo sulla Ragusa-Catania e sulle questioni ancora non risolte concernenti la cessione del progetto esecutivo dell'arteria dalla concessionaria Sark di Torino all'ANAS. Tutti siamo consapevoli quanto questa infrastruttura, afferma la CISL, sia di cruciale importanza per la crescita non solo del territorio di riferimento ma anche dell'intero bacino del sud-est. Ecco perché il sindacato continua a tenere accesi i riflettori consapevole che a fronte di un inter così complesso e la cui durata è ormai ventennale non si può attendere oltre. Ennesimi rinvii sarebbero letti come uno schiaffo al territorio e sinceramente in una fase così delicata non se ne avverte il bisogno. La questione del passaggio dalla Sark all'ANAS è stata affrontata dalla delibera del Cipe dello scorso agosto e che però è stata pubblicata in gazzetta ufficiale appena nei giorni scorsi. Nel decreto è previsto il passaggio all'ANAS in attesa della costituzione di un'apposita società di scopo tra governo e regione siciliana con capitale interamente pubblico per rilevare il progetto in questione. Aspettiamo dunque che il cambio di soggetto a giudicatore possa concretizzarsi, conclude il sindacato, e che soprattutto il Cipe alla prossima riunione utile, si esprima in termini definitivi sulla questione. Si deve cioè comprendere quanto tempo occorre per creare la società di scopo tra ANAS e regione siciliana o CAS, oppure se è meglio effettuare il cambio del soggetto a giudicatore soltanto in favore della sola ANAS, come tra l'altro previsto dall'accordo attuale tra la Sark e appunto l'ANAS.